Il 2020 del Cagliari si chiude con una sconfitta, purtroppo un'altra sconfitta di un 2020 veramente brutto che ci pone all'ultimo posto tra le squadre che hanno giocato la stagione di Serie A di quest'anno e in una partita, quella con la Roma, che ha visto il Rosso-Blu giocare soprattutto i primi 25 minuti del secondo tempo regalando ancora una volta la prima frazione, andando a mettere paura alla Roma in maniera anche molto orgogliosa però finisce 3-2, finisce 3-2 per la Roma, che vince, si prende 3 punti, va terza mentre Cagliari cala ancora di più e vede la zona retrocessione ad appena 4 punti quindi in questo momento la situazione è veramente, veramente difficile e capisco di Francesco quando dice di essere arrabbiato perché adesso sono tante le partite che sono state lasciate andare tanti punti persi e tante le situazioni che non hanno funzionato fin qui dal 3 gennaio Cagliari dovrà ripartire con Napoli e a quel punto non si può più fare il calcolo bisogna vincerle tutte, soprattutto in casa Napoli e Benevento non si può più perdere altro tempo anche perché, ripeto, dietro sono vicinissimi stanno cominciando ad ingranare Genoa ha vinto e quindi bisogna stare molto, molto, molto attenti i promossi di questa partita sono esattamente due Joao Pedro e Craglio Joao Pedro perché ha fatto tutto lui ha segnato due gol, ha segnato il rigore si è procurato il rigore ha dato alcune giocate molto, molto interessanti molto, molto importanti anche per i compagni è sembrato in qualche modo galvanizzato un po' dalla partita dopo averne fatte due molto fiacche e quindi vederlo di nuovo così decisivo è stata una bella risposta per Di Francesco così come Craglio che prende tre gol, sì però fa tantissime belle parate i gol non sono colpa sua perché ancora una volta il Cali soffre dal punto di vista dei calci piazzati soffre le squadre che sono più fisiche, più alte e si è visto anche ieri, insomma i gol presi quindi Craglio ha fatto il suo ha fatto delle bellissime parate nel primo tempo si conferma il miglior portiere della Serie A per statistiche e quindi, insomma, non poco invece dal lato dei bocciati metto la difesa tutta la difesa a partire da Ligo Giannis per finire a Zappa perché? Perché la lettura tattica di Di Francesco non è stata sbagliata mentre la difesa a tre serviva proprio ad arginare non solo Dzeko ma anche Pedro e Mkhitaryan purtroppo qualcosa non ha funzionato soprattutto ai lati soprattutto ai lati e contemporaneamente al centro perché nel momento in cui venivano presi in velocità né Godin, né Valuchevic, né Cepitelli erano in grado poi di salvare la situazione molte volte sono andati in affanno Cepitelli ha confermato le lacune che ha sempre avuto Godin ha confermato di non essere un fulmine a livello di corsa e Valuchevic che, insomma, l'infortunio si sentiva ancora magari mettere Pisacane o Carboni avrebbe aiutato la difesa a gestire meglio la situazione Poi, chiaramente, tutti parleranno di Lico Giannis e di Zappa perché alla fine i gol sono arrivati da quei lati soprattutto dal lato di Lico Giannis che finora aveva lavorato bene difensivamente e ieri invece è andato completamente in panne contro un avversario, Karstorp che non è un fulmine non è chissà quale esterno quindi, insomma, evidentemente ha pagato un po' di stanchezza l'altro bocciato e di Francesco perché? perché vedendo che il cane è andato sotto l'1-2 e vedendo che c'era la necessità di dare una scossa un po' alla squadra che un po' si era vista in qualche modo in difficoltà perché era il suo miglior momento e invece la Roma ha trovato il gol e invece è superata la mezz'ora non ha fatto alcun cambio e capisco che volesse dare fiducia ai ragazzi che aveva in campo però in qualche modo bisogna anche saper girare le partite a proprio favore avere anche un po' più di coraggio capisco quelli che dicono ma sembra quasi Maran sì, in effetti in alcune occasioni Di Francesco sembra quasi mancare di coraggio in realtà ripone molta fiducia su quelli che sono in campo perché non ha le riserve adatte poi per continuare a dare un tasso qualitativo molto alto alla partita è inutile Cagliari a gennaio deve comprare deve avere dei giocatori nuovi che possano dare all'allenatore altre soluzioni delle alternative che adesso mancano soprattutto al centro campo al centro campo Scitorog Oliva non è il giocatore ideale per una situazione del genere per aiutare la squadra a dare profondità a dare palleggio a dare grinta così come il croato e speriamo ovviamente che per oggi non sia nulla di grave però speriamo anche che a gennaio arrivino dei giocatori di altissimo livello ovviamente sto parlando di Nainggolan che permetterebbe poi a Di Francesco di fare un ragionamento ben diverso rispetto a quello fatto finora però è chiaro che anche l'allenatore è tanto arrabbiato però le sue responsabilità si verranno tutte e in questo momento se Cagliari ha perso i punti li ha persi un po' per una colpa collettiva non solo per la bravura altrui quindi speriamo che il 2021 porti ai Rosso Blu e a Di Francesco tante cose buone e belle rispetto a quelle viste finora e spero che tutti voi passiate un bellissimo Natale e speriamo appunto dal 3 di vedere un Cagliari diverso che porta punti e ci fa gioire grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti